Allora, io chiedo al Consigliere Bacchano di sovrappettere a questo aminamento, perché l'ha detto anche di poco fa che non possiamo mangiare di idroido, olio e ucidio, quindi quando uno sale, se vuoi sentire un tango, un giocamento, lo scherzo e le certe cose, ci vuole un'approponimento. Allora, se staviamo sottosegando a questo aminamento, poi facciamo un'approponimento e lo facciamo con un'attività di sovrappettere, perché i cittadini, i miei figli, non si potrebbero vedere, non è che già un minuto lo fa, cioè non si può valutare adesso. Seguro voi che la giunta ha fatto già la dimensione della cazzo, è diversa. Quindi, come vedete, questa giunta non va verso i cittadini, ma cerca di equilibrare un bilancio che si proposta necessariamente se la voce. Quindi, se ti posso prendere, aspetta non va verso i cittadini. Sfav. No, 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 no. Grazie. 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 e quindi chi è favorevole alla... al campo del senso, resta il futuro, e il strato del tuo scambio. Allora, io. E' un po' di ciò. Grazie a tutti. E no, si arrabbora a tutti, non lo sento, non lo sento, non lo sento, non lo sento, ma lo sento, non lo sento, non lo sento, ma lo sento, ma lo sento. Allora, io, non ci sarei fatto, non lo sento ma lo sento, ma lo sento ma lo sento, non lo sento, non lo sento, non lo sento... E' un po' di ciò, dove lo sento? Cusca! Abbianmo una! Ehi gente, non è stata nemmeno a casa, fatevi un altro, un altro contesto. Il ragione avrà presente, chi è il maurino del re di giugno, chi è il maurino del chiamato. Chi è il maurino del chiamato? Chi è il maurino del chiamato? Ok, quindi, vengi, progetti, maurino del re di giugno, chi è il maurino del chiamato? Non è stato il maurino del re di giugno di minore, maurino del re di giugno, non è stato. Felicเ e l' remaino. Chi è il maurino del chiamato no Watch. Chi è il maurino della lavoro? Chi è il maurino del re di giugno. Ma non si è il maurino del re di giugno, non si è il maurino del re di giugno. Con una situazione, non ci è il maurino del re di giugno. Grazie a tutti.